Fontamara e la lotta per l'acqua per irrigare i campi potrebbero diventare solo una pagina letteraria e non più realtà con la quale gli agricoltori si debbano confrontare ogni giorno. La regione, attraverso 50 milioni di euro del Masterplan, intende infatti realizzare l'intervento denominato Progetto per una rete irrigua a pressione a servizio della Piana del Fucino. La siccità, come è noto, è una delle pieghe storiche di quello che un tempo era un lago ed oggi è una piana a forte vocazione agricola nella Marsica. La convenzione stipulata da Arap, Consorzio di Bonifica Ovest e Regione Abruzzo, fa partire l'iter di progettazione che, dice il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso, deve procedere spedito verso la gara d'appalto onde evitare che manine romane, così le ha definite, possano riprendere e destinare ad altro progetto i soldi stanziati. 50 milioni di euro fanno parte del Masterplan che sono stati resi oggetto di concessione finanziaria e che possono adesso prendere il progetto preliminare e portarlo al progetto esecutivo e appaltarlo. In quattro mesi possiamo arrivare alla conclusione della progettazione esecutiva con tutti i pareri favorevoli. Si dice a livello nazionale e tecnico che affinché si faccia un'opera pubblica di rilievo servono tre condizioni, il bisogno dell'opera e ci siamo, la copertura finanziaria e ci siamo, 50 milioni di euro, il consenso dei mondi interessati e ci siamo. Adesso si tratta di essere ambiziosi e di non farsi vincere dalla pigrizia. Ci sono tutte le condizioni, ci sarà anche un osservatorio per stimare e giudicare la progressione del lavoro sul piano adesso della progettazione e poi anche della esecuzione. Non sarà ripetibile né la cifra messa a disposizione, 50 milioni di euro, né il suolo che verrà occupato dalle opere d'arte che si faranno. Ecco perché non possiamo sbagliare, dobbiamo fare solo bene con l'ode. E io mi aspetto anche un controllo cooperativo da parte delle associazioni dell'agricoltura e dei tanti sindaci che anche oggi sono venuti.